Di Guerina Piscaglia non si hanno più notizie dal 1 maggio 2014. Sono passati dieci anni da quando la casalinga di Carafello, all'epoca cinquantenne, scomparve nel nulla. Il suo corpo non è mai stato ritrovato, ma Gratiana Labi è stato comunque riconosciuto colpevole di aver ucciso la donna quel pomeriggio stesso all'interno della canonica e poi di aver fatto sparire il suo corpo. Un caso di cronaca che fece il Giro d'Italia. Per l'ultima volta la donna fu vista in paese quel primo maggio, indossava un abito elegante e si stava dirigendo verso la canonica dove avrebbe dovuto incontrare il viceparroco, Gratiana Labi, con il quale avrebbe avuto un rapporto sentimentale, testimoniato da ben 4.000 messaggi scambiati sino al giorno della scomparsa. Sarebbe stata proprio questa relazione clandestina, secondo i giudici, il movente del delitto. Guerrino avrebbe voluto rendere pubblico l'amore per Gratiana, mentre l'ex sacerdote non ne voleva sapere. Per impedirle di parlare, l'avrebbe così uccisa. Dopo mesi di depistaggio, Labi fu indagato e poi arrestato, quindi processato e condannato in via definitiva a 25 anni di reclusione per omicidio e occultamento di cadavere, benché continui a proclamare la propria innocenza dal carcere di Re Bibbia. Ad incastrarlo gli sms inviati dal cellulare della donna dopo la sua scomparsa, oltre all'analisi delle celle telefoniche agganciate. Adesso i familiari della donna, il marito Mirko e il figlio Lorenzo, hanno avanzato una richiesta di disarcimento da anni milionaria, ma soprattutto continuano a chiedere a Gratiana Labi di dire la verità.